Nell'ambito proprio di quello che sono lo spirito della città metropolitana, di coinvolgimento e di coordinamento, oggi è stato organizzato un incontro con tutti i sindaci proprio per spiegare quali sono le modifiche apportate sul sistema di allertamento. Sistema di allertamento meteo che vede la figura del sindaco come figura centrale e decisionale rispetto a quello che è l'emergenza. Quindi il sindaco riceverà un nuovo bollettino, completamente diverso rispetto a quello che è abituato, un bollettino che ha molte più informazioni che permetterà al sindaco di prendere delle decisioni, ovvero di aprire o non aprire il centro operativo sui propri territori per far fronte alle emergenze. Sicuramente è un sistema un po' più snello e quindi la comunicazione arriva al sindaco ed è il sindaco che deve decidere. Questo ha un aspetto rispetto al sindaco che è il sindaco a prendere la decisione di apertura, quindi responsabilizza maggiormente rispetto a prima la scelta del sindaco, responsabilizzando significa che il sindaco a questo punto deve essere consapevole delle proprie responsabilità a maggior ragione proprio perché il centro operativo può essere aperto attraverso una sua decisione.